Musica Battipaglia, le reazioni degli impresentabili Enrico Lanaro, Zanetti a Battipaglia Confronto candidati, assenti Motta e Marchetta Doppio incidente, 5 feriti Droga nel reggiseno, arresto e denuncia Eboli, protesta dei vigili urbani Santa Cecilia, interrogazione del PD Capaccio Pestum, denominazione approvata Le terre della bufala, quarta cicloturistica Musica Su 14 impresentabili in Italia, la metà sono a Battipaglia Tutti in liste civiche, 3 di loro sono nelle liste del candidato sindaco Gerardo Motta L'imprenditore Lucio Carrara, lista Battipaglia con cuore Il panettiere Francesco Procida, speranza per Battipaglia Il carrozziere Bartolomeo da Puzzo, Battipaglia a testa alta Gli altri tirati in ballo sono l'operaio Demetrio Landi Con moderati per Battipaglia, candidato sindaco Lanaro L'imprenditore Daniela Minniti nella lista Battipaglia Popolare Candidato sindaco con inverso Il macellaio Carmine Fasano di azione civica Candidato sindaco Tozzi E Giuseppe Delpercio, operatore della ristorazione Nella lista la città che verrà con il candidato sindaco Ciotti Arrivano intanto le prime reazioni di alcuni impresentabili Lucio Carrara ha scritto Nella mia vita ho sempre lavorato Non avendo più possibilità economiche per potermi difendere Ho patteggiato una pena che viene inflitta a chiunque fallisce con un'azienda Oggi non avendo mai fatto vita politica ed essendo un neofita della stessa Non credevo che si potesse arrivare a tutto questo Vergognoso, io mi sento un gran lavoratore Combatterò come ho sempre fatto Nella vita con sudore e sacrificio Demetrio Landi invece ha sottolineato che da ragazzo ho fatto solo un errore Ed è quello di aver fatto un reato di piccola natura Scontato, pagato e riabilitato Tanto che avevo anche il permesso di partecipare alla vita politica del paese Chiedendo ai rispettivi uffici elettorali i documenti Per presentare le mie candidature e esercitare il mio voto Vorrei incontrare la signora Bindi E se lei stesso ritiene che io debba dare dimissioni sulla mia candidatura Vorrei darle nelle sue mani Dichiarazione anche di Daniela Minniti Nell'attesa di conoscere le motivazioni che mi dichiarano impresentabile Mi autosospendo da qualsiasi attività elettorale Da candidata al Consiglio Comunale di Battipaglia Con la lista Battipaglia Popolare Onde evitare processi mediatici Ogni tipo di strumentalizzazione della mia persona E di chi da sempre mi conosce Mi stima e mi vuole bene Naturalmente difenderò la mia legittima aspettativa E ho onorabilità in ogni sede preposta Enrico Zanetti Vice Ministro delle Economie e delle Finanze Segretario Nazionale di Scelta Civica per l'Italia Questa mattina battipaglia Per incontrare il candidato sindaco Lanaro E confermare il proprio sostegno In vista dell'appuntamento elettorale Con le amministrative del prossimo 5 giugno Il messaggio è di per sé stesso Enrico Lanaro Una persona seria Una persona che si mette in gioco per la sua città Lo fa con coraggio Andando al di là di quelle che sono Le appartenenze partitiche Le strutture Si presenta con delle sue liste civiche Ma non per questo è solo All'appoggio di chi già in passato Ha cercato il rinnovamento Della classe dirigente italiana in Parlamento E che vuole insieme a lui Fare un'operazione analoga qui su battipaglia Più che un appello adesso Un ringraziamento al Vice Ministro Che con tutti questi impegni Ha pensato a battipaglia Quindi battipaglia dovrebbe andare sul giornale Non solo per eventi negativi Ma enfatizzare appunto la presenza dello Stato In una cittadina insieme a noi Per garantire praticamente la ripresa di questi territori Quindi più che un appello Voglio sfruttare l'occasione Per dire questo Lo Stato Lo Stato genuino Di quelli che si adoperano nel lavoro In settori anche importanti È presente Guarda il territorio Ci sta dando una mano Si è svolto ieri pomeriggio in diretta Il confronto tra i candidati a sindaco di battipaglia Erano presenti Ciotti, Cersosimo, Francese Inverso Lanaro e Tozzi Assenti, Motta e Marchetta Programmi aspettative, commissioni antimafia Queste le tematiche affrontate in studio Il confronto è stato seguitissimo Sia sul digitale terrestre che in streaming La replica andrà in onda questa sera alle 21 e 10 circa Due incidenti tra la notte scorsa e questa mattina A Siciniano sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 36 Due giovani di 25 anni Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri Il conducente della vettura ha perso il controllo del veicolo Che è finito prima fuoristrada E poi precipitato in un vallone che costeggia la provinciale Sulla statale a campagna invece ferite 4 persone Rimaste chiuse nell'autovettura che si è capovolta Sul posto i vigili del fuoco che li hanno estratti Contusioni e traumi Infine, questa mattina, poco dopo le 9 All'uscita autostradale di campagna Scontro tra auto e cisterna Un ferito policontuso condotto in ospedale Si indaga sulle cause dell'impatto Nascondeva la droga nel reggiseno della moglie Arrestato Maurizio Ciancio, pregiudicato e spacciatore Il pusher di 33 anni era in auto con la compagna e il figlio piccolo I due coniugi sono stati a Castellammare di Stabbia Comprata la droga, Ciancio e la moglie stavano rientrando ad Eboli Le 35 dosi di cocaina erano destinate nelle piazze della Piana del Sele Ma lo spacciatore è stato fermato all'uscita autostradale di Ponte Cagnano I poliziotti della squadra mobile hanno attirato Ciancio in trappola Lo spacciatore non ha avuto il tempo di fuggire I poliziotti hanno perquisito la smatta e la moglie Recuperando le 35 dosi di cocaina Ciancio è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti La moglie è stata denunciata per favoreggiamento Vigili urbani senza divise estive Questa mattina è partita la protesta A qualche agente è arrivata solo la camicia estiva Ad alcuni operatori è stato consegnato il giubbino A tutti i vigili manca il pantalone L'abbigliamento incompleto ha fatto esplodere la protesta Da oggi i vigili urbani faranno servizio in abiti civili Indosseremo la pettorina e avremo la paletta Ma pretendiamo più dignità professionale Afferma Gerardina Pisaturo in una nota della CISL Ad assolvere il comune ci pensa la UIL La colpa non è dell'amministrazione Precisa Alfonso Lacorte La ditta Cantalupo ha ricevuto i soldi Ma ha inviato le divise incomplete Dicono sia un mestiere facile e ben pagato Un lavoro senza rischi Se non si esagera con le multe Soprattutto se c'è un politico in divieto di sosta Fare il vigile urbano ad Eboli oggi è imbarazzante e complicato Specie d'estate con temperature già elevate A maggio gli agenti sono scesi in strada con divise invernali Sabato scorso erano accaldati e arrossati Qualcuno si è sentito male Gli ultimi giorni c'erano 30 gradi al sole Sbottano in via nazionale I consiglieri comunali del PD ebolitano Antonio Conte, Teresa Di Candi e Antonio Petrone Hanno presentato un'interrogazione al sindaco di Eboli Massimo Cariello e al presidente del consiglio comunale Fausto Vecchio Sul degrado e la messa in sicurezza del quartiere Santa Cecilia Nella nota si chiede quali iniziative si intendano intraprendere Per l'area urbana di Santa Cecilia Per risolvere problemi di sicurezza e decoro Come il progetto di risanamento che riguarda le strutture Spartacus e la scuola Virgilio Da tempo, si precisa, non si procede al rifacimento della segnaletica stradale Pertanto le strade del quartiere non sono in sicurezza Gli spazi pubblici e privati inoltre sono lasciati nel degrado Data la mancata manutenzione di pulizia Non più solo Capaccio, ma l'indicazione di Capaccio Pestum Sì, perché il consiglio regionale della Campania Ha definitivamente approvato il cambio di denominazione del comune di Capaccio In città di Capaccio Pestum Si conclude quindi l'iter burocratico Che ha avuto inizio più di due anni orsono Con l'indicazione del referendum comunale Con il quale la cittadinanza espresse la propria preferenza Per l'aggiunta di Pestum a Capaccio L'approvazione dell'assise regionale È avvenuta con voto all'unanimità 39 voti favorevoli su 39 presenti Compreso il sì dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle Ciclisti protagonisti nelle terre della Bufala Si rinnova per il quarto anno consecutivo La manifestazione del 2 giugno Promossa dall'associazione Eboli Sele Bike In collaborazione con il GS Fontana Vecchia All'iniziativa sportiva hanno aderito anche i Rampic Eboli La novità di quest'anno è la visita alla Casina Reale dei Borbone Nella caserma militare di Persano L'appuntamento per gli appassionati delle due ruote In Piazza della Repubblica domani mattina Il raduno è alle 7.30 Scortati dagli scuteristi di Sampio Dalla Protezione Civile Dalla Croce Gialla Gli amanti delle due ruote Nonché delle recenti imprese di Vincenzo Nibali Partiranno alle 8.30 Verso il fiume Sele Attraverseranno paesaggi mozzafiati E tenuti secolari Quest'anno abbiamo ottenuto 300 adesioni Spiega Damiano Capaccio Dirigente della Eboli Sele Bike E organizzatore dell'evento Che ha il patrocinio del Comune di Eboli La ciclo pedalata sarà a velocità controllata Sono previsti 4 punti di ristoro Grazie a tutti